Una cosa importante per chiudere sull'emergenza idrica, il Blacco ha acquistato, noi non lo sapevamo nessuno, due strumenti che sono dei potabilizzatori a biossido di cloro che verranno messi all'ingresso dei serbatoi di Donna Lucata, 76 mila euro, verranno messi dentro 40 giorni e garantiranno la potabilità al 100% dell'acqua, poi ripeto, ognuno può dire la sua, non ci piace, però l'alternativa arrivata a questo punto di andare contro ebriacque è quella di andare contro al pubblico, non c'è altre soluzioni. Quindi non dovrebbe esserci più il problema della non potabilità dell'acqua con questi interventi? No, assolutamente, vengono garantiti al 100% la potabilità con questo strumento che sono due macchinari a biossido di cloro, io mi sembravo che li mettevano all'uscita del pozzo, invece vengono messi prima del serbatoio, che cosa succede? Nel momento entrano e viene fatto questo processo, nel momento in uscita ci sarà un altro strumento che misurerà la potabilità, se ci dovrebbero essere problemi si blocca automatico e quindi non c'è bisogno neanche di ordinanza, si blocca automaticamente l'erogazione.